Destini opposti quelli di Vicenza e Juve Stabia, un buon pomeriggio da parte di Mario Giunta dallo stadio Menti di Vicenza, questa è Vicenza-Juve Stabia, partita della ventiquattresima giornata della serie B-Win 2012-2013. Vi dicevo destini opposti perché il Vicenza deve risalire la classifica, la classifica è pericolante, c'è stato in settimana il cambio di allenatore, è arrivato dal canto al posto di Breda dopo la sconfitta in trasferta per 3-1 contro il Cesena. Dall'altra parte la Juve Stabia che ha rallentato un po' nell'ultimo periodo della stagione ma è ancora la spera in uno dei miracoli stagionali, cioè la qualificazione ai play-off per il momento distante, soltanto un paio di punti. Iniziamo anche con un po' di cronaca perché come vedete ombrelli aperti sullo stadio di Vicenza, sul Menti di Vicenza, piove da questa mattina, piove in maniera incessante, l'intensità della pioggia alcune volte è anche molto 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 forte, lo vedete anche da queste immagini e obiettivamente il campo è molto molto pesante, questo sicuramente potrà condizionare la partita. L'arbitro però Borriello ha fatto un sopralluogo prima del match e ha deciso comunque di iniziare il match, di far iniziare il match, poi chiaramente se le condizioni dovessero peggiorare verranno prese altre decisioni, lo vedete anche da questa inquadratura quante pozzanghere che ci sono specialmente nella parte bassa del vostro teleschermo verso le panchine, lì il pallone farà molta difficoltà ad andare. Andiamo però con le scelte dei due allenatori, iniziamo dalla squadra di casa, dalla prima formazione, dal primo Vicenza di Alessandro Dalcanto, tante scelte importanti nel suo 4-4-2, ci sono ben 5 nuovi giocatori, nel senso arrivati nel mercato di gennaio, iniziando da Bremic in porta, difesa 4 con Brighenti, Milanovic arrivato dal Palermo ma già la seconda presenza con il Vicenza, Camisa e Di Matteo. Padalino a destra e Bellazzini a sinistra, i due esterni di centrocampo con Castiglia e Ciaramitaro al centro, Puginov che oggi è anche il capitano e Giacomelli in avanti. Dall'altra parte invece per la Juve Stabia, sempre 4-4-2 per Braglia, anche qui con qualche novità, parte dal primo minuto, Suciu arrivato nel mercato di gennaio, finisce in panchina Bruno, Agostì farà coppia con Cellini in attacco, Zito, Mesavilla e Verdi completano il reparto di centrocampo, la difesa confermata con Di Conso, Murolo, Figlio Meni e Baldazendu in i 4 di difesa con Nocchi chiaramente in porta. Questo è l'arbitro che è Borriello, i suoi assistenti sono Melloni e Demeo e questo è l'inquadrato Cellini, attaccante della Juve Stabia, chiamato insieme ad Agostì a sostituire Bakogu che è stato tenuto fuori per questa trasferta a Vicenza, ancora non in perfette condizioni fisiche, sicuramente il giocatore più tenibile per l'attacco della formazione di Braia. Foto di rito invece per il Vicenza, Vicenza che deve tornare assolutamente alla vittoria, non vince da otto partite, dal match in casa qui contro il Novara, finito 2-1 per il Vicenza, poi è arrivato il pareggio ad Ascoli, la sconfitta contro la Provercelli, tanti pareggi in casa con tanti gol contro Livorno e Modena, il K.O. Casalingo contro lo Spezia e poi tante trasferte andate male come quella di Empoli, di Reggio Calabria e l'ultima quella di Cesena. Dall'altra parte invece la Juve Stabia non vince sì da due turni ma è in serie comunque positiva da tre con la vittoria contro il Crotone, i due pareggi con Livorno e Brescia. Insomma ci sono tanti ingredienti per assistere ad una bella partita, ripetiamo che però l'unico ingrediente che potrebbe stonare è il campo che nella parte destra non è sicuramente perfetto. Il pallone però rimbalza e allora si dà il via al match, lo vedete già i giocatori provano ad alzarlo perché comunque diventa abbastanza complicato. Perde il primo pallone appunto il Vicenza, prova ad andare a Costi nello spazio, viene fermato, attenzione al cross alla prima occasione! A Costi prova ad arrivare sul pallone, attenzione al pallone ancora vivo con Zito, prova a metterlo dentro. Subito Juve Stabia che parte pericolosissima dopo 25 secondi. A Costi non è riuscito ad arrivare al tapin vincente. Ma che dormita qua della difesa del Vicenza. Bravissimo però Bremec. A dire di no. Il primo colpo di testa. E' già comunque in piedi Braia, saporato per qualche istante già la possibilità di andare in vantaggio qui a Vicenza. Preoccupato dal canto che è arrivato in settimana, ha avuto comunque poco tempo per dare le prime indicazioni. Attenzione però qui alla Juve Stabia che è scoperta Giacomelli, fallo di Figliomeni, calcio di punizione per il Vicenza. Se ne metto un po' Figliomeni, intervento sulla corsa del numero 23. Nella Juve Stabia ha toccato Giacomelli, calcio di punizione. Può essere un pericolo sicuramente Giacomelli con la sua velocità a mettere in difficoltà. Chiama quattro uomini in barriera, nocchi. Bisogna stare attenti anche su questo campo, a qualsiasi tipo di situazione, anche a questi calci di punizione. I portieri lo sanno bene. Boginov sistema il pallone, vicino a lui c'è anche Bellazzini, ma subibilmente andrà Boginov alla conclusione. Giacomelli, vicino a lui c'è anche il pallone, vicino a lui c'è anche il pallone che si alza sopra la traversa. La riceve comunque l'applauso da parte del proprio allenatore. Gli ha toccato a Bellazzini. È arrivato un po' male sul pallone. Terminato sulla gradinata, rinvio per Nocchi. E' chiaro che allora dovesse continuare così a piovere, il campo peggiorerebbe di volta in volta. Agosti in area di rigore, fa difficoltà a portare il pallone avanti. Guadagna comunque calcio d'angolo. Agosti che prova a sfruttare, nonostante la situazione non favorevole, la sua velocità. Vicenza che sta passando un periodo molto particolare. Lo sentite anche dai cori che arrivano dalla curva più calda del tifo vicentino. Certo non si aspettavano forse una stagione così piena di difficoltà. Pallone che rimane in area di rigore. L'ultimo tocco di un giocatore della Juve Stabia. Allora rimessa dal fondo per Bremic dopo 3 minuti e 30 secondi. La più grande occasione l'ha avuta proprio la Juve Stabia in apertura. È stato bravo Bremic però a dire di no. C'è un calcio di punizione per il Vicenza, andrà a batterlo Camisa. Svirgola qua Figliomeni. Un urolo in qualche modo, allontana il pericolo. Il colpo di testa di Brighenti prova a mettere un po' di ordine. Stabia con Verdi. Attenzione a questa palla profonda per Giacomelli. Figliomeni in chiusura. Poi libera Baldanzello. Sbaglia però Baldanzello. Il pallone finisce nella zona di Padalino che deve lottare oltre che contro i giocatori della Juve Stabia anche con il terreno. Si alza il pallone. Prova a arrivarci a Costi di testa. Anticipato Milanovic. Prova a passare in mezzo a due. A Costi non lo ferma nessuno. A Costi prova con il destro. Contratta la sua conclusione dal terreno di gioco. Esce in presa bassa Bremic. Anticipando difensori e attaccante della Juve Stabia. Pacellini aveva provato ad avventarsi sul tiro stoppato dall'acqua. Mettiamola così di A Costi. Attenzione al pallone profondo. Troppo lungo. E allora Bremic riconquista il pallone senza troppi problemi. Padalino prova a servire in profondità a Boginov. Il controllo non è perfetto di Figliomeni. Pallone che termina in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo anche per il Vicenza dopo sei minuti di gioco. Pallone che arriva nell'area di rigore. Libera però la Juve Stabia. attenzione al lancio in profondità per Verdi. La chiusura di Camisa. E butta il pallone direttamente in fallo laterale. sei minuti e mezzo zero a zero. Le due squadre non riescono a giocare forse come vorrebbero complice. Condizioni atmosferiche non favorevoli per una partita di pallone sicuramente. Lancio attenzione in profondità. Splendido l'intervento in mezza rubesciata. A parte di Murolo. Poi Mesavilla. Il lancio con il sinistro nella zona di Zito. Camisa in qualche modo riesce a tenere comunque il pallone in campo il Vicenza. Attenzione però a questo lancio per Giacomelli. Fermato in posizione irregolare. Si riprenderà con un calcio di posizione per la Juve Stabia. Posizione irregolare di Bocino. Qui il bel intervento di Murolo in rovesciata. Molto bravo. Insolito vedere un difensore coordinarsi in maniera così bella. Rinvio per Nocchi. Composizione. La partita di Murolo inizia. andrà a calciare il pallone lungo Camisa però verso sinistra dove può ricevere Di Matteo uno sguardo nel posizionamento dei compagni poi va con il sinistro Di Matteo riceve il pallone Bojinov vertice dell'aria di rigore prova la conclusione viene rimpallata pallone che termina in fallo laterale rimane dunque in zona d'attacco il Vicenza Bojinov il tocco per Padalino c'è ancora Di Matteo sull'out di sinistra ancora palla per Bojinov che viene anticipato usa male il corpo qui il Bulgaro attenzione dunque alla ripartenza della Juve Stabia fa buona guardia però Milanovic poi Castiglia preferisce non far toccare il pallone per terra poi Giacomelli sfrutta anche il terreno per tenere lì il pallone Giacomelli prova a utilizzare un po' la sua velocità gli si mette di fronte però Figliomeni gli tocca il pallone che termina in calcio d'angolo secondo corner per il Vicenza saranno fondamentali come vi ho detto già prima tutte queste situazioni di palle inattiva attenzione al pallone che arriva in area di rigore poi c'è un intervento da parte di Bellazzini su Acosti calcio di punizione per Juve Stabia nel tentativo di controllare poi ha preso la gamba il numero 27 dello Juve Stabia e allora calcio di punizione per la squadra di Braglia calcio di punizione che andrà a battere in occhi Buzinov con la testa esce però palla al piede qui la Juve Stabia con Zito ancora Zito che riceve dal proprio compagno di squadra viene messo a terra l'arbitro fa continuare c'è un po' di confusione non si sa chi deve prendere il pallone chi lo allontana alla fine Vicenza che scaglia via il pallone Figliomeni con il tocco sotto poi Acostino riesce a servire i propri compagni di squadra recupera Castiglia prova a passare in mezzo a due Castiglia il lancio in profondità esce in occhi aspetta che il pallone intri nell'area di rigore poi lo prende con le mani anticipando Giacomelli Murolo con la testa poi Bellazzini ha toccato il pallone poi Bucino lo deve difendere resiste alla prima carica poi serve Brighenti Brighenti contro Zito il contrasto tra due cacci di punizione chiede scusa Zito intervento energico ma sicuramente falloso allora calcio di punizione per il Vicenza avete sentito in maniera colorita comunque anche Braille lamentarsi delle condizioni del campo calcio di punizione che va a battere Camisa non riesce a ripartire qui Vestab allora rimessa ancora per il Vicenza con Brighenti si rimane in zona d'attacco stavolta Bellazzini che va a raccogliere il pallone poi lo lascia sempre a Brighenti che serve a sua volta Bellazzini in due su Bellazzini prova a passare in mezzo a due poi commette anche fallo allora calcio di punizione Brighenti quando se ne sono andati 12 minuti di gioco punteggio sempre sullo 0-0 continua a piovere qui a Vicenza pallone che fa sempre più fatica a palleggiare di certo abbiamo visto comunque campi in situazioni peggiori di queste del del Menti Figliomeni a Costi attenzione al movimento di Verdi prova a servirlo a Costi pallone non gli arriva e allora riparte il Vicenza con Castiglia che prova a servire Bocino un pallone troppo verso la linea laterale allora rimessa per la squadra di Braglia sempre in piedi dal canto si è addirittura tolto il giubbotto sente molto questa esperienza con il Vicenza ritorna dunque ad allenare dal canto dopo le esperienze con il Pado esperienze più che positive ha scelto questa avventura con il Vicenza avventura non facilissima per il momento vista soprattutto la situazione classifica dei Vicenti spazio per il Vicenza qui con Bellazzini poi preferisce appoggiare per Camisa attenzione alla palla dentro anticipato Bocino prova al momento della conclusione ma ancora Vicenza prova a mettere dentro questo pallone Murolo in qualche modo con il corpo fa scudo e mette il pallone in calcio d'angolo ferma il gioco l'arbitro Borriello chiede un po' di calma un po' di collaborazione anche ai giocatori non è facile neanche per l'arbitro la situazione è valutare contatti scivolate chiaramente attenzione ai saltatori del Vicenza soprattutto a Milanovic pallone che arriva in area di rigore libera però Juve Stabia poi Padalino con il tocco sotto ancora Bellazzini perde il pallone Bellazzini sbaglia però qui la ripartenza di Juve Stabia e poi non c'è altra soluzione che liberare l'area di rigore addirittura Di Matteo va a fare la diagonale scivolata qua si fa anche male perché va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari l'arbitro Borriello chiede l'intervento dei sanitari lo abbiamo visto praticamente live lo scontro di Matteo contro il cartellone pubblicitario la scivolata praticamente il piede la gamba sinistra è come se gli fosse rimasta dietro rispetto al corpo di certo non un movimento naturale per fortuna lui è già in piedi e la partita è tra l'altro ripresa sembra nulla di grave soltanto un piccolo spavento per Di Matteo colpo di testa di Murolo poi in qualche modo dal Danzello il rilancio in profondità per Cellini viene anticipato Cellini il Vicenza non si infida mette il pallone in fallo laterale Zito va a rimettere in gioco subito per Cellini prova a fare tutto da solo Cellini poi appoggia per Zito prova il cross ancora rimessa laterale per la Juve Stamia sempre Zito chiama l'attenzione i suoi compagni di squadra a Bremec Cellini riesce a tenere il pallone in campo Cellini poi in mezzo a due è ancora rimessa laterale praticamente dalla stessa zona di campo sono 40-50 secondi che si gioca lì nell'angolino e adesso la Juve Stabia guadagna un calcio d'angolo ancora Zito prova ad andare si ferma ancora una finta non riesce però a servire proprio il campagno di squadra poi Flipper impazzito con Pozzanghere che si alzano il fallo lo subisce Bellazzini calcio di punizione per il Vincenzo fallo di Di Cuonzo un cappucciato Braglia ma in piedi a dare indicazioni alla sua squadra non riesce a dare potenza su questo calcio di punizione ha provato il lancio in profondità Cellini per Acosti esce Bremec e fa suo il pallone fallo di Cellini su Castiglia proprio nel momento del passaggio c'è stato l'intervento di Cellini calcio di punizione per il Vincenzo disturbato più che altro poi Castiglia si scalcia da solo Padalino prova a tenere vivo l'attacco del Vicenza Padalino c'è Baldanzeddu però che fa buona guardia su di lui ancora Padalino non riesce praticamente a girarsi adesso prova ad alzare il pallone interviene Verdi che disturba l'azione del Vicenza che sbaglia il rinvio pallone che termina in fallo laterale partita veramente discutibile dal punto di vista dello spettacolo in questi primi 18 minuti di gioco avete sentito Baldanzeddu al volo non facciamo rimbalzare il pallone questa è l'indicazione anche dalla panchina è lo stesso Baldanzeddu che gioca il pallone di prima in tensione però in maniera sbagliata poi Figliomeni sbaglia anche Figliomeni allora si riprende con una rimessa laterale per il Vicenza anticipato Bocino poi Milanovic provato a servire Cellini viene messa a terra Mesavilla calcio di punizione e poi il pallone è il pallone preso in un'epilimento almeno dal limite dell'area è così però Vicenza allontana Giacomelli prova a servire Bocino anticipato anche Bocino poi Padalino prova il lancio Figliomeni con buona guardia poi deve lottare però Ciaramitaro che alla fine perde il pallone il contrasto prende anche una botta in faccia da Acousti tutto regolare per l'arbitro poi Bocino alla in profondità per Giacomelli il pallone però schizza via e allora rimessa laterale per la Juve Stabia promessa che va a battere Di Matteo e poi Figliomeni rimette il pallone in fallo laterale il lancio di Figliomeni nella zona di Acousti che viene anticipato da Ciaramitaro poi Mezzavilla prova a tenere vivo l'attacco della Juve Stabia viene messo a terra l'arbitro fa a continuare poi recupera il pallone Succiu prova a portarlo per qualche metro Succiu poi decide di alzarlo e lanciare in profondità anticipato Cellini Castiglia prova il lancio in qualche modo è fortunato riesce a servire Giacomelli che si porta sull'out di sinistra monteggiato da Baldanzè poi arriva anche Succiu e mette il pallone in fallo laterale non riesce a controllare Padalino neanche Baldanzè arriva però Milanovic con il sinistro serve praticamente Mezzavilla il lancio in profondità nella zona di nessuno può uscire tranquillamente Bremic andare a giocare il pallone con i piedi e rilanciarlo in profondità il colpo di testa di Mezzavilla poi non si accorge che il pallone rimane in zona Giacomelli Ciaramitaro sbaglia Ciaramitaro il tocco rimessa per la Juve Stabia tanti tantissimi errori in questi primi 21 minuti e 30 secondi attenzione qui all'errore può andare zitto va con il sinistro riesce a prendere bene il pallone Bremic però lo blocca ancora un errore in fase di impostazione sta costando caro qui non ci ha pensato due volte è partito bene il sinistro del numero 3 della Juve Stabia è stato attento Bremic attenzione a Bogino che prova a entrare nel rigore viene murato dalla difesa della Juve Stabia che non riesce però a ripartire allora ancora Vicenza con Padalino il tocco di Padalino per Ciaramitaro allarga a destra Ciaramitaro dove può servire Bellazzini però Bellazzini viene anticipato poi Camisa ancora Bellazzini deve mettere a terra il pallone deve girarsi Bellazzini guadagna anche calcio di punizione per il vicenza l'altrattenuto di Duri Conso Bellazzini e d'accanto decide di rimettersi anche il Giacone perché con la pioggia e con il freddo non si può stare senza Giacone calcio di punizione per il vicenza intanto ha ripreso a piovere con una certa intensità soltanto una tregua di qualche minuto attenzione a questo pallone messo al centro esce Nocchi in qualche modo ha provato lui questa abbia uno schema stranissimo per mettere in fuori gioco i giocatori del Vicenza non c'era riuscito ha rischiato tantissimo la squadra di Braia in questa in questa circostanza se n'è andata comunque la prima parte della partita il primo quarto del match rinvio con i piedi per Nocchi una sola opportunità per la Juve Stabien ad inizio match poi nulla più e tanti tanti errori è messa laterale che fa battere Brighenti Bozinov si gira bene stavolta Bozinov serve Giacomelli ha un po' di spazio Giacomelli serve Padalino attenzione a Padalino prova a entrare in area di rigore ci mette il corpo Baldanzeddu poi rischia un po' Baldanzeddu mette il pallone in fallo laterale rimane comunque in zona d'attacco qua il Vicenza tutto regolare questo intervento di Baldanzeddu per l'arbitro un po' accentuato la caduta anche Padalino che riceve qui già in piedi il pallone poi commette fallo su Verdi calcio di punizione per la Juve Stabia Verdi uno dei volti nuovi della squadra di Braille in questo mercato di gennaio sicuramente un giovane molto molto interessante che avrà modo e spazio sicuramente di crescere bene con Piero Braille tanto giallo qua per per Padalino sempre molto attenta la regia che ci ha mostrato anche l'ammunizione per Padalino del Vicenza non era nell'elenco dei diffidati diffidati che sono Castiglia Pinzoglio Martinelli e Pisano soltanto Castiglia in campo prova ad andare Padalino poi Giacomelli lascia sfilare il pallone in fallo laterale così il Vicenza potrà riordinare le idee di Matteo Castiglia ancora di Matteo prova a toccare per Giacomelli lotta Giacomelli con un po' di fortuna riesce a gestire questo pallone è bello lo stop qua di Bellazzini in due su di lui di Conso e da Costi che dà una mano anche dietro poi Brighenti il cross in area di rigore Figliomeni allontana con la testa poi Castiglia larga a sinistra per Padalino uno sguardo in mezzo di Padalino poi il colpo di testa di Bogino Nocchi poi su il pallone senza nessun problema faceva anche la guardia Figliomeni sull'uscita sull'uscita di Nocchi avete sentito anche le indicazioni sui calci da fermo sta dando Braia ai suoi ai suoi giocatori è bello anche farvi sentire e vivere l'atmosfera dalle panchine Mesavilla palla dentro Milanovic con la testa ancora Mesavilla delizioso lo stop con la coscia del capitano della Juve Stabia poi Suchu palla profonda di Suchu non ci può arrivare Zito ci arriva però Bremic e fa su il pallone e la Juve Stabia va avanti al 27esimo minuto con il gol di Cellini 1-0 per la squadra di Braia colpita in contropiede il Vicenza e alla seconda opportunità del match di Stabia ha colpito pallone che si è insaccato praticamente sotto l'incrocio bella la palla di Verdi in mezzo all'area di rigore e poi come ho detto Cellini ha segnato il gol dell'1-0 sul Tassucio ma il gol è assolutamente di Cellini e adesso si complica un po' la situazione per la Juve Stabia anche dal punto di vista ambientale i tifosi non hanno gradito sicuramente lo svantaggio per Cellini secondo gol in campionato dopo quello messo a segno sul campo del Livorno palla dentro Figliomeni allontana Cellini tocca per per Succio che sbaglia il passaggio per Verdi recupera Ciaramitaro poi Di Matteo Padalino ancora Castiglia perde il pallone Castiglia allora Mesavilla però c'è un fallo su Castiglia Mesavilla aveva lanciato alla perfezione tra l'altro anche Cellini per il calcio di punizione secondo l'arbitro Burriello che era comunque vicino all'azione qui la palla dentro di Verdi era l'inizio del gol il vantaggio della Juve Stabia è arrivato Cellini che ha concluso bene al volo con il destro sostanzialmente e ha messo il pallone sotto l'incrocio sul primo palo calcio di punizione per il Vicenza che vediamo se reagirà allo svantaggio pallone che arriva dentro Figliomeni fa sempre buona guardia allontana Acostì Di Matteo con il destro sbaglia Di Matteo senza guardare allora ancora Acostì intervento di Camisa in anticipo l'ultimo tocco però a prova di un giocatore della Juve Stabia rimessa laterale per il Vicenza Prova ad andare Giacomelli viene fermato poi Ciaramitaro prova a mettere dentro il pallone calcio di punizione in gioco pericoloso e allora punizione a due per il Vicenza tutto di battuta Padalino e Bellazzini alzato la gamba alzito attenzione a Milano i cecchiamisi sono tutti arrivati i saltatori del Vicenza pallone che però neanche arriva al centro dell'area di rigore completamente da dimenticare questo calcio di punizione e allora si riprende con una rimessa per la Juve Stabia rimessa dal fondo chiaramente qui stiamo rivedendo il bel gol di Cellini ha colpito la palla da sotto che si è alzata ha preso una traiettoria strana e si è inzaccata sotto l'incrocio battendo Brevich il secondo gol in campionato dopo quello di due partite fa con il Livorno poi Quazito a metà tra un'apertura e un tiro in porta pallone che termina sul fondo allora rimessa per il Vicenza quando abbiamo superato la mezz'ora del primo tempo 1-0 per la Juve Stabia il gol di Cellini non è mai tranquillo braglia ormai abbiamo chi segue la serie B-Win su Sky ha imparato a conoscerlo sempre molto vicino ai propri giocatori recupera il pallone verdi l'intervento di Padalino calcio di punizione per la Juve Stabia l'intervento deciso di Padalino Padalino che è stato ammonito poco fa deve stare attento da qui alla fine della partita il pallone che sfila sul fondo potrà andare Bremets con i piedi finessa laterale in zona d'attacco per la Juve Stabia Baldanzeddu adesso se la può prendere anche con un po' più di calma la Juve Stabia Cellini poi Verdi sull'out di Destran dove è nato il gol del vantaggio della Juve Stabia perde però il contrasto recupera comunque una rimessa laterale da una situazione ormai difficile il centrocampista della Juve Stabia Cellini mette a terra il pallone in mezzo a quattro addirittura Cellini viene fermato Giacomelli gira intorno a Verdi poi perde il contrasto con Baldanzeddu Badagna comunque rimessa laterale alza il pallone Giacomelli colpo in testa di Filomeni poi Verdi tocco per ultimo di Matteo alla rimessa laterale per la squadra di Braglia non soddisfatto il pubblico di Vicenza che sta continuando a contestare la squadra non è bastato il cambio in panchina avvenuto in settimana con l'esonero di Breda e l'arrivo di Dalcanto non è bastato neanche un mercato molto molto attivo quello del Vicenza basti pensare che oggi sono ben cinque i giocatori nuovi in campo attenzione a Succio deve girarsi Succio il tocco all'indietro per Murulo poi Figliomeni con il mancino Figliomeni nella zona di Zito non è perfetto il controllo di Zito riesce comunque ad uscire il Vicenza solo per un attimo Succio viene trattenuto calcio di punizione per la Juve Stabia ma si vede anche da queste azioni il Vicenza è un po' meno convinto qui era in possesso del pallone Ciaramitaro è finito per perdere tra l'altro ha commesso anche fallo dunque calcio di punizione calcio di punizione che potrebbe battere Mesavilla sistema la barriera Bremets Mesavilla Di Conso sul punto di battuta chiamano schema sembra chiamare uno schema Mesavilla con il braccio alzato la finta di Di Conso va a Mesavilla pallone che arriva sul secondo palo il colpo di testa liberare l'area poi attenzione ancora Zito prova con il sinistro stile calcetto con la punta si alza troppo il pallone che termina alto sopra la traversa si dispera Zito perché comunque si era creato lo spazio per una conclusione con un po' più di serenità lo vedete invece ha deciso questa soluzione con la punta non è che si è alzato è terminato sul fondo recupera qui ancora il pallone di Westabia con Verdi che tocca per Zito prova ad allargare per Acostì non è precisissimo il passaggio allora ancora il Vicenza che prova a ripartire il lancio di Bocino nella zona di Giacomelli è in vantaggio Figliomeni mette il pallone in fallo laterale prova con queste ripartenze il Vicenza ma è sempre molto attenta la difesa della Juve Stabia a chiudere su tutti i palloni non controlla Ciara Mitaro da qui sbaglia a liberare la Juve Stabia ricorre il il pallone di Matteo la regna rimessa laterale Verdi però non è dello stesso dello stesso avviso non è d'accordo neanche Borriello che assegna la rimessa alla Juve Stabia e ha ragione perché l'ultimo tocco è di Matteo è saltato sopra praticamente Verdi allontana camisa nella zona direttamente del portiere della Juve Stabia Nocchi che rientra nella propria area di rigore guadagna secondi importanti Nocchi il pallone con le mani su-ciu lancio a destra dove c'è Verdi che ha un po' di spazio ancora Verdi può andare attenzione al mancino di Verdi viene ribattuta la sua conclusione ancora però è su-ciu un po' di spazio per ragionarci su si chiudono però le maglie del Vicenza Baldanzeddu serve Cellini prova il cross Cellini viene ribattuto poi ancora Verdi palla in area di rigore Brighenti allontana senza pensarci su due volte rimessa laterale dunque per la Juve Stabia nella metà campo del Vicenza Cellini deve difendere il pallone non ci riesce il tocco per ultimo rimessa per il Vicenza stavolta 38esimo sul cronometro 1-0 decide Cellini Di Matteo con il destro altro errore di Di Matteo qui anche in fase di impostazione sbaglia la Juve Stabia con Di Cuonso poi si fa anticipare Di Cuonso solo per un attimo da Bellazzini perde il pallone Di Cuonso lo recupera Bellazzini può andare in ripartenza il Vicenza Boginov la parata di Nocchin in calcio d'angolo il tiro era comunque centrale è stato bravo Boginov con il mancino ad andare alla conclusione bravo Nocchi ad alzare sopra la traversa prima opportunità del match anche per il Vicenza che prova a chiudere con un po' di orgoglio pallone che arriva al centro dell'area di rigore non la tocca nessuno e allora rimessa dal fondo per Nocchi pericolosamente danzato nel limite dell'area dell'area piccola Spuffa Braglia sicuramente soddisfatto per il vantaggio ma non vorrebbe sicuramente queste disattenzioni da parte dei suoi il lancio in profondità di Suju ritorna il pallone della zona di Suju che sta giocando una buona partita poi Verdi perde il contrasto con Padalino forse commette anche fallo Verdi fa continuare l'arbitro Baldanzedo ha spazio per il cross arriva il cross Milanovic con il corpo c'è zitto in pressing su Ciaramitaro Ciaramitaro libera il pallone Baldanzedo ci mette la testa rimessa laterale per il Vicenza 5 dalla fine del primo tempo poi chiaramente ci sarà il recupero anche se comunque non ci sono state tante interruzioni Padalino subisce fallo Padalino calcio di punizione fallo di Verdi chiede scusa Verdi calcio di punizione che va a battere direttamente Milanovic smaglia però la punizione Milanovic ritorna praticamente il pallone stavolta va con il mancino arriva Filiomeni tutto il pallone innisimo in fallo laterale rimessa laterale va a battere Di Matteo Giacomelli Padalino vicino a lui guadagna altra rimessa laterale si gioca stile rugby Filiomeni in qualche modo si aiuta anche con un braccio rimane a terra Giacomelli e poi Filiomeni mette il pallone in fallo laterale questo involontario da parte di Filiomeni che nel tentativo di andare via in dribbling al numero 10 del Vicenza lo ha toccato in faccia una manata che anche l'arbitro ha ritenuto involontaria i due si stanno spiegando rimasto sicuramente a terra dolorante Stefano Giacomelli come vedete anche dalla grafica tre gol in serie B l'ultimo nel 3 a 3 proprio casalingo qui al Menti contro il Modena poi golla anche nella prima partita del Vicenza in campionato nella sconfitta contro lo Spezia questi sono i tifosi i coraggiosi tifosi arrivati da Castellammare di Stabia della Juve Stabia sempre vicini alla squadra che non hanno voluto far mancare l'apporto alla formazione di Braglia che sta ottenendo comunque un risultato sicuramente importante fino a questo fino a questo momento all'andata finì 1 a 1 segnò Malonga oggi in panchina per il Vicenza scognamiglio per la Juve Stabia anche lui oggi in panchina Rocinov allarga per Bellazzini prova a mettere il pallone dentro Bellazzini nella zona di nessuno anche perché Giacomelli era fuori dal campo si recupererà forse qualcosina proprio per questa interruzione dovuta all'infortunio di Giacomelli siamo ormai in dirittura d'arrivo di questo primo tempo 43 sul cronometro Nocchi si prende tutto il tempo del mondo fa avvicinare anche Bozinov passano secondi importanti secondi preziosi Milanovic di testa poi solo per un attimo Padalino che però recupera il pallone su Baldanzed lo perde poi Figliomeni Acosti non controlla benissimo Acosti ma però a partire lo stesso in velocità tocca il pallone Acosti che fosse stato Bolt sarebbe riuscito a raggiungerlo perché è davvero troppo lungo rimessa da fondo per Bremec recupera il pallone Acosti poi Mesavilla prova a servire in profondità Cellini anzi Verdi viene anticipato allora ancora Vicenza in posto si palla con Bellazzini servito Bojinov non si ritrova più il pallone Bojinov prova a darlo a Bellazzini la chiusura buona di Di Conso in questa circostanza che poi senza guardare spara il pallone più lontano possibile Castiglia il tocco a sinistra a due riceve Di Matteo c'è poco movimento però del Vicenza Padalino di prima in attenzione Padalino prova a mettere dentro il pallone Mesavilla per un attimo poi Figliomeni che ancora pallone in fallo laterale oggi Figliomeni tutti i palloni li ha spediti in fallo laterale non vuole rischiare vuole tenere il Vicenza lontano dalla propria area di rigore Padalino sbaglia Padalino il tocco sotto recupera Mesavilla ci avviciniamo al 45esimo minuto di gioco tra poco l'indicazione anche di recupero Milanovic lancio in profondità di Milanovic esce nocchi Belazzini aveva tagliato sì ma con un po' di ritardo nessun problema per il portiere della Juve Stabia il rinvio con i piedi per alzare la lavagnetta luminosa saranno due i minuti di recupero così ha deciso l'arbitro Borriello all'undicesima direzione in Serie B il lancio di Castiglia per Belazzini anticipato di testa da Di Cuonso poi Ciaramitaro guadagna rimessa laterale su Zito rimessa laterale battuta velocemente servito Bozinov deve lottare anche con il campo Bozinov è buona la palla per Padalino che però non ci arriva allora Baldanzeddu rilancia questo pallone colpisce tra l'altro Padalino poi il colpo di testa di Succiu indietro per per Rannocchi che adesso blocca il pallone con le mani guadagna altri secondi importanti se ne sono andate se ne è andato quasi il primo minuto di recupero si arriverà al 47esimo minuto il colpo di testa di Ciaramitaro in mezzo al campo sbaglia l'intervento Castiglia poi sbaglia anche Mesavilla arriva Padalino poi Bozinov il lancio in profondità per Giacomelli c'è Baldanzeddu tocca questo pallone per Verdi alza il pallone comincia a palleggiare Verdi poi sbaglia però il tocco con il sinistro rimessa per il Vicenza che prova a chiudere in avanti questo primo tempo va a battere Di Matteo Bozinov in mezzo a tre appoggia a sinistra per Padalino mantiene il possesso di palla Padalino il pallone in campo però il cross è per nessuno allontana da Juve Stabia Costi perde il contrasto di testa con Brighenti pallone ancora vivo per Belazzini rimane a terra un giocatore della Juve Stabia pallone dentro per Bozinov poi Baldanzeddu libera l'area Verdi prova a partire Di Matteo su di lui arriva anche Castiglia allora con calma Verdi appoggia per Mesavilla che li restituisce il pallone ancora Verdi con il mancino il lancio per Acosti con il corpo Acosti poi viene lanciato in profondità Acosti un po' di spazio Acosti può andare nella zona di campo più bagnata Acosti prova l'uno contro uno su Milano che c'è molto più veloce prova a puntarlo va alla finta con il cross poi il cross lo effettua con il sinistro Zito prova a mettere dentro arriva Bremic prima di tutti ma arriva anche il fischio dell'arbitro finisce così il primo tempo 1-0 decide il gol dell'inquadrato Cellini ci fermiamo super spot e poi di nuovo qui da Vicenza sono rientrati anche gli ultimi ritardatari della Juve Stabia intanto è pronto ad entrare invece Simone Tiribocchi ed esce Giacomelli colto bene allora maggior peso in attacco con Bozino e Tiribocchi là davanti sicuramente una coppia d'attacco molto molto d'esperienza ma è una coppa d'attacco che obiettivamente in serie B se la possono permettere in pochi quella di Valeri Bozinov e Simone Tiribocchi vediamo però il secondo tempo come lo affronta il Vicenza subito questo primo lancio per Bozinov poi Padalino viene messo a terra Bozinov l'intervento di Murolo calcio di punizione dopo 15 secondi primo calcio di punizione del secondo tempo testa contro testa rischiato anche di farsi seriamente male Bozinov e Murolo nessun provvedimento disciplinare per l'arbitro si rialza si rialzerà lo farà tra pochissimo Bozinov sull'orecchio praticamente è stato colpito l'attacante Bulgero tanto D'Arcante ha mandato a far scaldare anche altri componenti della panchina c'è Bellazzini sul punto di battuta il mancino di Bellazzini chiama il pallone dentro l'area di rigore Tiribocchi ha tanta voglia Tiribocchi lo ha detto anche in settimana va Bellazzini con il mancino pallone che arriva in area di rigore il colpo di testa Vicenza vorrebbe il calcio d'angolo non è dello stesso avviso l'arbitro l'arbitro Borriello adesso c'è un po' di confusione ma anche l'assistente Melloni ha visto l'ultimo tocco di un giocatore del Vicenza in realtà l'ultimo tocco è di Conso è stato calcio d'angolo netto e qua un errore comunque da parte della terna arbitrale anche perché il tocco da parte del numero 19 della Juve Stab era abbastanza netto attenzione a questo lancio di Succio nella zona di nessuno interviene Bremic prova il Vicenza riversarsi nella metà campo della Juve Stab in questo secondo tempo Padalino spinto Padalino calcio di punizione il fallo da parte di Zito calcio di punizione è battuto riconquista subito il pallone però Juve Stab con Zito provato a servire a Costin a profondità la chiusura di camisa poi Padalino Ceramitaro provato il tocco di prima Ceramitaro in qualche modo Padalino riesce a portare il pallone avanti a sfruttare un po' di spazio prova a lanciarsi Padalino poi vince un rimpallo pallone che arriva a Bogino il cross in area di rigore il colpo di testa di Baldanzeddu poi Ceramitaro in pressing allontana la Juve Stab è passato forte il Vicenza in questi primi tre minuti di gioco atterrato Padalino calcio di punizione il fallo di Di Cuonzo attenzione alla protesta un po' plateale da parte di Di Cuonzo l'arbitro sorvola e decide di non estrarre il cartellino giallo sistema la bandiera Nocchi due uomini in barriera la coppia l'attacco Ciglini a Costi attenzione il movimento in area di rigore di Bogino tiri bocchi va Bellazzini con il sinistro pallone che arriva nel centro del rigore libera Baldanzeddu pallone ancora vivo con il Vicenza che gioca però questo pallone senza guardare pensava ci fosse Padalino qua c'è questo intervento scivolata su Zito calcio di punizione e arriva il giallo per Brighenti e ha preso soltanto l'uomo voleva per carità prendere il pallone tentativo disperato di arrivare sul pallone prende solo disclusivamente Zito giallo per Brighenti dopo il pallone ma Balterrenocchi pesa Villa lancio in profondità per Cellini colpo di testa poi Ceramitaro in qualche modo prova a rilanciare per Bogino ancora di Conso, passa in mezzo a due di Conso bella giocata qua di Di Conso poi viene mezzo a terra, calcio di punizione chiede scusa a Padalino non ci arriva Costi, rimessa dal fondo ma era anche finito in offside Costi, allora, punizione comunque per il Vicenza troppo lungo il pallone per Bellazzini rimessa laterale che fa battere Baldanzeddu Mesavilla, di prima in attenzione colpo in testa di Milanovic prova a tenere il pallone in campo non ci riesce però il Vicenza e allora rimessa per la Juve Stabia rimessa laterale che va a battere Baldanzeddu tocco per Figliomeni, bella la giocata qua di Figliomeni poi sbaglia il passaggio, Ciaramitano lancio in profondità il tocco di Tiribocchi, servito ancora Tiribocchi, prova a entrare in regore Tiribocchi, viene spostato Tiribocchi per l'arbitro Borriello è tutto regolare, spalla contro spalla questo è il giudizio che ha dato con un po' più di calma il direttore di gara qua di Cuonso e Tiribocchi sembra regolare il contrasto assolutamente di Cuonso in velocità andavano tutte e due a cercare il pallone sbaglia qua però la ripartenza Castiglia ci mette il piede cross in area di rigore, viene deviato allora ancora Vicenza in possesso del pallone il lancio in profondità anticipato Tiribocchi Acosti lascia scorrere poi Camisa Bogino anticipo di Milanovic Ceramitaro, buona la giocata qua di Ceramitaro poi sbaglia totalmente il lancio si prende un po' di fischi poi Nokia, attenzione, il rischio mette il pallone con il Mancino in fallo laterale sul pressing di Tiribocchi sicuramente uno dei più attivi Tiribocchi un po' preoccupato Braglia perché il Vicenza ha iniziato con grande intensità questo secondo tempo poi però non riesce mai a concludere o comunque a organizzare le idee per creare un'azione offensiva il rinvio di Inocchi nella zona di Castiglia che colpisce di testa poi Camisa poi Mezzavilla sbaglia Mezzavilla è fortunato però c'era Mitaro che dietro luce era Camisa che però commette fallo su Cellini e allora calcio di punizione per la Juve Stabia otto minuti se ne sono andati quasi nove sempre un a zero per la squadra di Braglia Verdi prova ad andare in dribbling sull'auto di destra Verdi riesce il doppio dribbling di Verdi ancora Verdi si accentra Verdi Verdi non lo ferma nessuno poi si ferma ancora in mezzo a due si lascia cadere e allora recupera il pallone il Vicenza con Padalino che può andare dall'altra parte Padalino prende un colpo in faccia da Zito giallo in arrivo per Zito e allora punizione per la Juve Stabia comunque fermato l'azione offensiva del Vicenza Zito quasi ritenuto un fallo tattico questo per l'arbitro Borriello Milanovic va con il sinistro poi Bogino fin'area di rigore va con il mancino pallone che termina sul fondo posizione molto molto difficile Nocchi aveva coperto bene il primo palo però c'è stata un'ideviazione allora calcio d'angolo calcio d'angolo per il Vicenza che va a battere Padalino sbaglia totalmente Padalino esecuzione del calcio d'angolo a Costi libera l'area di rigore mettendo il pallone in fallo laterale dunque rimane in zona d'attacco il Vicenza attenzione un pallone per Borginov il cross in area di rigore attenzione al tocco di mano calcio di rigore calcio di rigore e giallo per Murolo calcio di rigore per il Vicenza si lamenta un po' la Juve Stabia ma il tocco di mano dal live sembrava netto tocco di mano c'è stato e allora calcio di rigore per il per il Vicenza Borginov dal dischetto ammonito anche Murolo Tiribocchi allontana Zito che era andato lì per disturbare Borginov Borginov contro Nocchi all'undicesimo il Vicenza per pareggiare i conti va Borginov 1-1 il gol di Valery Borginov il primo con la maglia del Vicenza il secondo gol stagionale l'altro l'aveva messo a segno con quella del Verona ha spiazzato Nocchi esecuzione perfetta da parte di Borginov ed è il gol dell'1-1 intanto c'è subito un cambio perché entra Martinelli per la Juve Stabia vediamo chi uscirà uscirà Costi primo cambio anche per Braglia Costi esce un po' zoppicando Martinelli entra al suo posto però era nell'area comunque una possibilità del gol del Vicenza un Vicenza più rabbioso uscito dagli spogliatoi in maniera diversa intanto attenzione che l'arbitro Borriello ha estratto questo altro cartellino giallo per un intervento su Ceramitaro il fallo di Di Conzo che è intervenuto con la gamba un po' alta giallo anche per il numero 19 della Juve Stabia calcio di posizione intanto per il Vicenza che va a battere Camisa riprende coraggio anche il pubblico di Vicenza Padalino sull'out di destra il cross in era di rigore direttamente sul fondo allora rimessa per Renocchi di certo l'ingresso di Tiribocchi ha cambiato è parecchio l'attacco e la fisionomia dell'attacco della squadra di Dalcanto più peso più presenza là davanti rispetto alla velocità di Giacomelli e forse su questo campo la velocità non è diciamo il colpo preferito allora dentro Bocino attenzione però ancora la Juve Stabia in questa conclusione la parata di Bremets non in due tempi ma in tre tempi addirittura sbaglia poi il rinvio con le mani in qualche modo Brighenti si prende il giallo anche Brighenti però è il doppio giallo espulsione per Brighenti e adesso il Vicenza rimane in dieci uomini doppio giallo ed espulsione per Brighenti per questo intervento con il braccio bisognerà valutare insomma la volontarietà ma di certo il ruolo regolamento fallo di mano da pochi poco spazio alla volontarietà specialmente quando un'altra squadra è in fase offensiva attenzione qui alla Juve alla Juve Stabia con Baldanzeddu prova a entrare in area di rigore Baldanzeddu mette dentro guadagna calcio d'angolo prova a prendere coraggio di nuovo la squadra di Braglia che adesso avrà mezz'ora di tempo da giocare sia sull'uno pari ma in superiorità numerica per l'espulsione di Brighenti va Verdi dalla bandierina pallone che arriva sul primo palo colpo di testa di Martinelli pallone alto sopra la traversa tenuto anche in area di rigore Martinelli è riuscito a coordinarsi è avuto una gran bella occasione perché Bremens ha totalmente fallito i tempi dell'uscita per poco Martinelli sul primo palo non trova il gol del 2-1 Padalino rimessa laterale in zona d'attacco per il Vicenza commette fallo Bozinov allora calcio di pressione per la Juve Stabia 16 minuti sul cronometro 1-1 c'è una mitaro con la testa serve involontariamente praticamente Figliomeni poi buona la chiusura di Camisa Castiglia lancio in profondità interviene con precisione Murolo poi il tripling Milanovic che prova a ripartire con questo lancio in profondità per tiribocchi impreciso il lancio Figliomeni controlla poi di Conso lancio in profondità di Conso questa azione in area di rigore viene fermato dalla difesa del Vicenza Verdi poi tiribocchi subisce fallo tiribocchi da Martinelli per l'arbitro tutto regolare riesce comunque a toccare il pallone di tiribocchi Castiglia Ciaramitaro allarga a destra dove c'è Padalino si ferma un po' il pallone tallo di Zito sul Padalino calcio di punizione sicuramente smesso di piovere come vedete il campo difficilmente si asciugherà ma è migliorato qualcosina sicuramente va Camisa a battere questo calcio di punizione nella metà campo del Vicenza direttamente nell'area di rigore della Juve Stabia Bellazzini prova la giocata poi serve Castiglia attaccato Castiglia deve ritornare indietro nella zona di Milanovic il rischio di Milanovic poi Padalino serve Cellini è bravo però Camisa a interrompere il contropiede della Juve Stabia che disattenzione però del Vicenza Ciaramitaro lancio per Tiri Bocchi il colpo di testa di Figliomeni che finisce in fallo laterale oggi bella prova di Figliomeni non ha rischiato quasi nulla sempre molto attento su queste verticalizzazioni del Vicenza Milanovic Tiri Bocchi Ciaramitaro controlla allarga per Padalino sulla destra la finta di Padalino poi prova a buttarsi nello spazio viene fermato da Zito buono qua il dribbling di Zito che sfrutta tutta la sua velocità prova a servire Cellini Milanovic però ci mette il piede allontana recupera il pallone Succiu allarga per Baldanzeddu poi Verdi la sovrapposizione di Baldanzeddu vista ma non servita anzi lo fa soltanto adesso prova ad andare Baldanzeddu il cross è buono di Baldanzeddu esce però Bremenc sul primo palo e blocca il pallone fallo fallo su Zito calcio di punizione per Oliver Stabia ha già battuto Camisa Milanovic sale palla al piede Milanovic rischia di perdere il pallone l'ex difensore del Palermo poi Ceramitaro con la testa tiri bocchi allarga sinistra dove può ricevere Bellazzini perde però il contatto con il pallone che termina in fallo laterale fallo laterale che va a battere Baldanzeddu su giù di prima in attenzione nella zona di Cellini guadagna comunque calcio di punizione adesso Cellini deve fare un lavoro doppio perché è l'unico terminale offensivo della Juve Stabia e allora deve fare deve lottare anche lì davanti contro le torri della Vicenza calcio di punizione adesso per la Juve Stabia sale Figliomeni tutti dentro l'area di rigore quando siamo al ventunesimo del secondo tempo non riesce a arrivare però il pallone in area di rigore allora Suchu pallone dentro per Verdi prova la grande giocata però tutto fermo perché c'era la posizione irregolare nel numero 7 della Juve Stabia posizione irregolare che ci sta bravo qua e attento il guardialine Demeo era partito da dietro non si è fatto trovare impreparato sull'incrocio però il guardialine calcio di punizione che può battere Bremec Zito prova a giocarlo di prima poi arriva Padalino ancora però la chiusura della Juve Stabia poi in qualche modo Ceramitaro guadagna rimessa laterale riesce a ricatare un po' il Vicenza va a batterla Padalini Camisa Milanovic poi Di Matteo Bellazzini il pressing di Baltazedu su Bellazzini deve girarsi Bellazzini lo fa molto bene appoggiandosi nella zona di Castiglia può salire con un po' di spazio Castiglia non trova un appoggio di un compagno allora deve fermarsi ancora un dribbling ancora una finta di Castiglia molto bravo in questa circostanza poi spedisce il pallone al centro del campo Bocino anticipato allora Cellini perde il pallone Cellini lo recupera Bellazzini con un po' più di coraggio in questo secondo tempo il Vicenza l'apertura per Tiribocchi in posizione regolare fa continuare l'arbitro poi Bellazzini ancora palla per Tiribocchi in area di gore Tiribocchi con il destro pallone che termina sul fondo ma bella azione qua del Vicenza tutto nato da un lancio di Bocino per Tiribocchi è un triangolo di Tiribocchi con Bellazzini con la conclusione di destro del tir pallone sul fondo Nocchi aveva calcolato comunque bene la traiettoria fallo di Castiglia su Mesavilla che ha ricevuto anche una botta sul collo molto dolorosa la cambio entra Bruno esce Cellini autore del gol del vantaggio entra dunque Bruno guardiamo che il Vicenza è in dieci uomini per l'espulsione di Brighenti per doppia ammunizione a continuare l'arbitro su questo intervento a centrocampo attenzione a Zito l'intervento di Padalino ad allontanare ci avviciniamo al venticinquesimo del secondo tempo di Cuonzo gioca per Nocchi con i piedi Nocchi fallo su Mesavilla da parte di Bellazzini calcio di punizione rimane a terra Mesavilla sempre in piedi dal canto ci sarà da soffrire sicuramente questi ultimi 20 minuti del del secondo tempo del match intervento a terra il giocatore del Vicenza intervento da parte dello staff Milanovic il giocatore è arrivato nel mercato di gennaio dal Palermo ha trovato davvero poco spazio nel Palermo è caduto mettendo male il piede aia caduto male sono dolorosissimi questi infortuni perché cadi con il peso tutto sulla caviglia ci sarà da recuperare comunque qualcosina comunque in piedi Milanovic non è di grave potrà continuare la sua partita è comunque giovane lo vedete 21 anni da Milanovic la sua seconda partita con il Vicenza l'esordio in Cesena Vicenza 3 a 1 la scorsa settimana momentaneamente addirittura in 9 il Vicenza 9 contro 11 tra poco però rientrerà Milanovic si ritornerà al 10 contro 11 esce Figliomeni il lancio in profondità nella zona di Bruno troppo lungo però il pallone di Bruno arriva Padalino e libera l'area di rigore Zito prova praticamente ad autolanciarsi Bremec però è lì attento fa buona guardia del pallone fa scorrere dei minuti importanti Bozinov tiri bocchi il triangolo chiuso con Bozinov siamo sull'out di destra il cross in area di rigore intervento difensivo e allora ancora rimessa laterale per il Vicenza ancora con Bozinov Ciara Mitaro mette dentro il pallone anticipato tiri bocchi poi Succiu serve Bruno lavora con il fisico Bruno serve Zito prova a lanciarsi nello spazio Zito recupera il pallone solo per un attimo Casmisa il pallone però era uscito e allora dimessa proprio per la Juve Stabia di Conzo Bozinov buona la giocata qui di Bozinov si appoggia con tiri bocchi sembrano trovarsi bene i due anche se il più delle volte poi fanno anche lo stesso movimento essendo giocatori con caratteristiche simili lancio in profondità per Zito Adalina attenzione alla spinta di Zito che chiede immediatamente scusa si è reso conto che su questo campo così scivoloso anche spingere leggermente sbilanciare comunque il tuo avversario può essere pericoloso soprattutto e qua la spinta è netta soprattutto perché ci sono questi pericolosissimi cartelloni posizionati, cartelloni pubblicitari posizionati a pochi metri dal campo Camisa con la testa mette il pallone in fallo laterale sta per entrare anche in prota esce proprio Zito che lascia il campo tra i fischi dello Stadio Menti l'hanno presa benissimo i tifosi del Vicenza esce comunque dal campo Zito che ha spinto tanto spinto tanto si è fatto vedere anche in fase offensiva in prota entrando ha chiesto se devo occupare la stessa posizione attenzione intanto qui pallone in calcio d'angolo se devo occupare la stessa posizione di Zito segnale stato sì da parte di Braglia intanto va proprio a battere il calcio d'angolo in prota ora qui la giocata attenzione pallone in area di rigore proprio in prota in prota con il destro appena entrato a un quarto d'ora dalla fine ha portato avanti la Juve Stabia il gol del 2-1 incredibile la mossa azzeccata da parte di Braglia e al quarto gol in campionato Riccardo in prota porta avanti di nuovo la Juve Stabia ci ha messo pochissimi secondi è andato a battere il calcio d'angolo ha ricevuto questo pallone e poi praticamente un rigore in movimento per Riccardo in prota che non ha sbagliato con il destro è segnato il gol del 2-1 e si va a prendere l'abbraccio della panchina e qua vanno tutti i complimenti però a Bray perché ha azzeccato veramente mai come questa volta la mossa per ora vincente attenzione alla risposta della Vicenza con Bojinov Bojinov pallone alto sopra la traversa c'è deviazione però la risposta è tutta nella potenza del bulgaro Valery Bojinov che qui si è andato a prendere il pallone entrato in area di rigore sparato con il sinistro Nocchi ha toccato il pallone in calcio d'angolo diventa bello allora questo finale pallone che arriva nel centro dell'area di rigore attenzione al contropiede della Juve Stabia ancora con in prota che ha tanto spazio di fronte a sé 2 contro 1 però fa tutto da solo in prota si ferma si porta palla sul destro poi perde il contrasto allora Padalini può ripartire per il Vicenza Bellazzini ancora Padalino Vicenza adesso che deve rimontare il gol dello svantaggio e soprattutto è in 10 contro 11 Bellazzini eccolo ancora servito sull'out di destra prova a passare in mezzo a 2 viene messo a terra da Di Ponzo calcio di punizione per il Vicenza deve stare attento a Di Ponzo perché già ha monito segna solo gol pesanti comunque in prota alla quarta segnatura in campionato la terza l'aveva segnata nel 3-1 di Juve Stabia Crotone poi attenzione intanto a questa palla messa al centro pallone messo in calcio d'angolo a parte di Martinelli poi vi dicevo il gol anche nella vittoria 2-1 contro il Lanciano e nel pareggio a Novara per Novara a Vicenza per 1-1 calcio d'angolo tra Novara scusate Juve Stabia calcio d'angolo però per il Vicenza siamo al 33esimo minuto lo va a battere Bellazzini che deve andarsi a recuperare il pallone per accelerare i tempi a uscite 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 va Bellazzini con il macino in mezzo all'area di rigore anticipato anche Milanovic poi sbaglia però il passaggio anzi no è buono sembrava errato il passaggio Bellazzini mette dentro l'intervento di Figliomeni e ancora vivo il pallone bello lo stop di Bellazzini riesce a tenere il pallone in campo il cross di Bellazzini pallone arriva a camisa fa la sponda per nessuno poi Padalino prova la conclusione ribattuta attenzione al contropiede della Juve Stabia il lancio in profondità anticipato Verdi recupera ancora però il pallone Mesavilla apre a destra dove è pronto a ricevere Bruno liberissimo in prota lì a sinistra viene visto arriva con la testa in prota soltanto per un attimo poi riesce a mantenere il pallone in campo in prota e guadagna anche rimessa l'atelare grande impatto sulla partita di Riccardo in prota rimessa l'atelare che va a battere di di cuonzo servito proprio in prota il cross in area di rigore nella zona di Bruno spinge un po' Bruno va per l'arbitro tutto regolare finisce per perdere il pallone ancora il Vicenza Mesavilla ancora Mesavilla Baldanzedu Verdi porta palla in avanti Verdi si avvicina a lui Suciu preferisce passare ancora nella zona di Baldanzedu ancora Verdi adesso un po' di possesso di palla per la Juve Stabia Verdi va con il destro ribattuta la sua conclusione Mesavilla pallone alto con il bancino buona opportunità per la Juve Stabia sui piedi del capitano 10 alla fine tiri bocchi Bozinov prova ad andare Bozinov subisce fallo anzi non è così per l'arbitro guardarieni tra l'altro era molto molto vicino ha fatto continuare a volte fallo c'è su Castiglia calcio di punizione taglio di Bruno che ha spinto da dietro Castiglia ma Bellazzini sale tutta la difesa della Juve Stabia Bellazzini fa un calcio di punizione abbastanza discutibile tanta ripresa piovere a a Vicenza è messa dal fondo che va a battere in occhi fallo di Castiglia calcio di punizione per la Juve Stabia ci avviciniamo al finale di questa partita Bruno in area di rigore Bruno prova a girarsi pallone deviato calcio d'angolo per la Juve Stabia che prova ad andare a segnare il gol del 3-1 il gol della sicurezza qua Bruno guadagna il calcio d'angolo la deviazione ultima di Milanovic Baldanzeddu riceve il pallone il cross in area di rigore anticipato Murolo che poi lascia sfilare guadagna anche rimessa laterale poi Di Conso ancora in prota prova a guadagnare o un angolo o un fallo laterale guadagna il secondo e allora rimane in zona d'attacco la Juve Stabia che non ha non ha fretta vuole difendere il 2-1 e anche avanti con gli uomini questa è l'espressione di Brighetti in prota ora la finta di Sucio entra in area di rigore palla dentro troppo lunga per tutti i suoi compagni di squadra qui Bruno metà a terra di Matteo arriverà il giallo anche per Bruno infatti è così munizione per Bruno evidente e netta la trattenuta del numero 9 della Juve Stabia lancio in profondità Milanovic non si fida mette il pallone in fallo laterale non gradisce il pubblico del Vicenza quando siamo giunti al 39esimo minuto discreen non si fidedare il pubblico non si f tornare il pubblico non si fagi e la farà è stato il pubblico non si fanno il pubblico non si fanno di tutto offizare il pubblico Esavilla controlla il pallone Poi Verdi, fase molto confusa Banzeddu, Verdi ancora ancora Verdi, prova ad entrare in area di rigore C'è Suciu, poi servito in prota dall'altro lato prova con il destro in prota pallone che termina sul fondo ha provato a dare il giro alla sua conclusione Riccardo in prota Soffre Braglia fino alla fine Mesavilla, poi Verdi Solisce fallo Verdi, calcio di punizione ultimi 5 minuti della partita più recupero Allontana Padalino Mette a terra il pallone molto bene di Cuonzo il lancio per Bruno Camisa, poi Milanovic Ancora Milanovic, mette a terra il pallone con il petto Vicenza sembra non averne più Vestabia si limita a difendere il risultato a tenere lontano comunque Vicenza dalla propria metà campo dalla propria area di rigore Qua come fa girare il pallone di Vicenza non trova spazi in fase offensiva con cui testa di Cuonzo Arriva Suciu, buona prova anche di Suciu recuperato tanti palloni in mezzo al campo qui con una buona tecnica se ne va in mezzo a due poi palla per Verdi che allarga dall'altra parte per Baldanzeddu un po' di spazio per correre Baldanzeddu sfrutta l'opportunità poi ancora Verdi attenzione a Verdi buono il dribbling Verdi! Padalino un miracolo praticamente con il piede ma che grande azione di Verdi poi Suciu fa la conclusione con il destro la parata di Bremic gran bella azione di Verdi è partito ha puntato la porta grande doppio passo con il mancino qui andato alla conclusione Padalino si è immolato per evitare il gol del 3-1 Di Matteo Suciu allarga dove c'è Improta che ha mantenuto la posizione di Di Zito e anzi ha fatto anche meglio perché è riuscito a segnare il gol del 2-1 Mesavilla Baldanzeddu può andare e sfruttare lo spazio ancora sulla fascia di destra palla dentro per Verdi il cross di Verdi Bruno! la parata di Bremic che tiene a galla ancora il Vicenza poi Baldanzeddu Suciu ha un po' di spazio per andare alla conclusione ci pensa la prova pallone alto sopra la traversa rimasto a terra Baldanzeddu ancora una grande occasione per la Juve Stabia con Bruno intanto fuori Ceramitario dentro Mustacchio con il numero 8 secondo cambio per il Vicenza di Dalcanto ne ha fatti tre invece la Juve Stabia di Imbraglia sicuramente più efficace l'ultimo quello che ha portato in campo in prota che dopo pochi secondi ha realizzato il gol del 2-1 due minuti alla fine più il recupero Suciu ancora una grande giocata di Suciu vero gran bella partita quella del numero 17 della Juve Stabia si ferma Suciu ancora in dribbling prova a tenere il pallone poi con il tacco poi Verdi prova a restituirglielo con il tacco hanno esagerato forse qui i giocatori della Juve Stabia lancia in profondità Tiribocchi chiede il fallo per l'adito tutto regolare recupera Figliomeni poi Baldanzeddu Bruno limite dell'area di rigore Bruno si gira Bruno va alla conclusione con il destro pallone che termina sul fondo ormai ogni occasione diventa quasi ogni volta che la Juve Stabia si presenta in zona offensiva diventa una potenziale occasione il Vicenza è un po' sulle gambe in questa circostanza il rinvio di Bremec nonostante questo lo vedete anche l'incetamento della curva Vicentino Verdi in qualche modo poi Di Matteo allontana non c'è nessuna delle due punte Bucino e Bucino ti ribocchi pronto a raccogliere poi Milanovic il lancio sbagliato Baldanzeddu allontana poi Mesavilla e poi Verdi il lancio nella zona di Bruno colpo di testa di Padalino recupera il pallone Mustacchio appena entrato vediamo quanto sarà il recupero tra pochissimo ci sarà l'indicazione del quarto uomo Mustacchio si appoggia indietro per Padalino provare a restituirgli il pallone anticipato però Mustacchio lo recupera sempre lui Succio in mezzo al campo oggi quasi padrone Di Quonzo con il sinistro anticipato poi Tiribocchi prova a guadagnare la rimessa laterale ci riesce Mustacchio valla per Bucino si deve girare Bucino prova a servire Tiribocchi viene chiuso poi Succio allontana la Juve Stabia recupera Padalino poi Castiglia Padalino Camisa 4 minuti di recupero qui al Menti si giocherà dunque fino al 49esimo minuto Milanovic pallone dentro per Tiribocchi anticipato poi arriva Mustacchio con il destro pallone che termina sul fondo ha provato Mustacchio bella conclusione angolato però troppo messa dal fondo dunque per la Juve Stabia Verdi subisce fallo Verdi calcio di punizione per la Juve Stabia il fallo di Castiglia in piedi Braglia è un risultato importante quello che sta maturando adesso per la Juve Stabia che può ritornare in zona playoff Bruno apre a destra per Baldanzeddu ha corso tantissimo anche Baldanzeddu su quella fascia poi Verdi si ferma Verdi altro giocatore che ha giocato molto bene prova a mettere dentro Milanovic con la testa poi Castiglia sbaglia Mesavilla va alla conclusione pallone che termina sul fondo era sulla traiettoria comunque Bremec la ferma Mesavilla ha provato non ha dato tantissima potenza e neanche troppa precisione prova ad andare ancora a Baldanzeddu che ha ancora la forza di spingere a destra mette dentro arriva Milanovic gliela chiama Bremec non lo ascolta Milanovic che prova a fare tutto da sola a far ripartire il Vicenza siamo già al secondo minuto di recupero due alla fine Buzinov anticipato poi Suchu per perdere il pallone ancora bravissimo Suchu sul pressing anche di Buzinov poi Inocchi con i piedi allarga a destra con calma per gestire il pallone Martinelli poi lo serve a Suchu di Quonzo ancora Suchu che con gli spazi larghi chiaramente può sfruttare tutta la sua tecnica allarga sinistra per Improta proprio puntare Padalino Improta invece punta la bandierina per guadagnare qualche secondo adesso in due su Improta Padalino poi gli soffia il pallone resiste alla carica da dietro di Improta ancora poi sbaglia il passaggio l'ultimo tocco però è di Di Quonzo allora ancora Vicenza che ha qualche speranza quando manca un minuto e dieci secondi alla fine la palla per Mustacchio prova a buttarsi Mustacchio in profondità il pallone la squadra di Braglia poi Suchu pensa forse anche alla conclusione conclusione che parte Bremec la tiene lì ma al rinvio Bremec sono soltanto Bojinov e Tiribocchi Bojinov non riesce a controllare questo pallone allora Mesavilla 20 secondi alla fine anzi 15 in questo momento Verdi tre punti fondamentali per la Juve Stabia che sarà qua da 24 ancora nelle zone critiche il Vicenza finisce qui non c'è più tempo con qualche secondo di anticipo l'arbitro Borriello decreta finito il match vince la Juve Stabia di Braglia 2 a 1 mossa decisiva proprio di Braglia che ha fatto entrare in prota e ha fatto segnare in prota perché ha segnato il gol del 2 a 1 Juve Stabia che era andata in avvantaggio nel primo tempo con Cellini il pareggio di Bojinov sul calcio di rigore e poi come vi dicevo il gol del 2 a 1 finale di Riccardo in prota entrato da pochissimi secondi super spot e poi di nuovo qui torniamo in diretta con le immagini con la festa dei giocatori della Juve Stabia che vanno a esultare sotto il settore il settore riservato ai tifosi della Juve Stabia dall'altra parte ci sono i giocatori del Vicenza che vanno comunque sotto la curva si vanno a prendere i fischi dei propri sostenitori sono due immagini contrastanti il bello e il brutto del calcio i vincitori e i sconfitti da una parte a sinistra la festa della Juve Stabia con il prota che ha realizzato il gol del 2 a 1 con Martinelli che lo ha sfiorato e dall'altra parte eccolo qua il Vicenza sotto la propria curva si va a prendere a questo punto i fischi e anche le brutte parole forse dei tifosi non soddisfatti un chiarimento praticamente tra i giocatori e i tifosi i tifosi che non ci stanno non ci stanno a questa situazione di classifica il Vicenza che è in piena in piena zona retrocessione rischia tantissimo non è servito neanche il cambio di guida tecnica riportare un po' di serenità sarà una settimana molto molto lunga a Vicenza una settimana invece che vivrà con il sorriso Braia e il pubblico della Juve Stabia da Vicenza adesso però è veramente tutto appuntamento con la Serie B alla prossima settimana sempre su Sky grazie da parte di VarioAggiunta ciao